De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo del Balzo ad Avellino. Il deputato di scelta civica Angelo D'Agostino ha presentato una proposta di legge finalizzata a limitare la possibilità di derogare all'obbligo di imbottigliamento dei vini DOP e IGP nelle zone delimitate dai disciplinari di produzione. Circostanza questa che secondo il parlamentare Irpino spesso determina un calo della qualità dei vini e una violazione delle altre regole di produzione indicate nei disciplinari. La immissione sul mercato di vini pregiati a prezzi eccessivamente bassi, spiega D'Agostino, può essere solo giustificata solo se si sacrifica la qualità del prodotto. È evidente che ciò penalizza fortemente quelle aziende che invece investono sulla qualità dei propri vini e tra l'altro imbottigliano nelle zone di produzione. I nostri DOP e IGP, aggiunge poi il parlamentare, sono diffusamente riconosciuti come vini di grande pregio proprio in ragione degli ingenti somme investite dalle cantine per migliorarne le qualità. Non sempre queste qualità sono garantite da chi invece imbottiglia altrove e vende il vino a prezzi di gran lunga inferiori a quelli fissati dalle cantine che hanno sede nel territorio di produzione indicato dai disciplinari. In occasione dell'inaugurazione del padiglione Campania Alvinital, il presidente De Luca, prosegue D'Agostino, ha espressamente chiesto ai produttori di insistere nella ricerca dell'eccellenza per rendere i nostri vini ancora più competitivi sul mercato internazionale. È il presupposto per incrementare l'esportazione in USA e in Europa e per conquistare altri mercati, in particolare quello asiatico. Con questa mia presente proposta di legge, chiude il deputato, si impone l'imbottigliamento nella zona di produzione delle uve, così come delimitate dai disciplinari. Si tratterebbe di un ulteriore passo in avanti verso quella qualità da tutti tanto auspicata.